E' arrivata la prima vittoria stagionale per quanto riguarda l'Eagles Aprilia. Gran parte del merito, a nostro avviso, è da attribuire anche al portiere Fezza qui alla mia destra. Allora, è stata una partita sicuramente ben giocata da parte della tua squadra. Tu sei stato molto impegnato, soprattutto nel secondo tempo, a cercare di mantenere il vantaggio corposo. Sono andate molto bene le cose. Sì, venivamo da due sconfitte consecutive con un punteggio troppo alto. In settimana abbiamo lavorato tanto su alcuni errori che facevamo e siamo stati bravi a chiudere ogni spazio. Lui erano, specialmente nel secondo tempo, molto aggressivi. Sono stati impegnati, però va bene così. Oggi andava bene anche se si è preso a pallonate, l'importante era vincere. Da questa partita dunque si riparte con molta fiducia e può iniziare un altro tipo di campionato. Sì, guardiamo un po' più sereni, un po' più tranquilli la prossima partita, sperando sempre di fare meglio di partita in partita. Sappiamo che è dura, ma andiamo avanti con i nostri mezzi. È stato il fattore dominante di questo match, un gran primo tempo da parte di Abate e qui alla nostra destra. Una partita che sicuramente vi ha visto in grande spolvero, soprattutto nelle fasi iniziali. Tanto agonismo, tanta aggressività, l'avete preparata nei migliori dei modi questa sfida? Innanzitutto buonasera. Avevamo voglia di fare, abbiamo voglia di fare anche perché la stagione precedente è stata abbastanza deludente e abbiamo voglia di riscattarci. Serviva un po' di fiducia perché venivamo da due partite con due grandi squadre e purtroppo abbiamo un po' ceduto. Però durante la settimana ci alleniamo, facciamo dei sacrifici per poi arrivare qui il sabato e dopo un anno di sconfitta è arrivata questa soddisfazione che non deve essere un arrivo ma un trampolino di lancio per noi.